Forza! Andiamo a trovare Prescott! Benvenuti dal meraviglioso Pongo! Questa parte dello show vi è stata offerta da... Hai sentito della nuova attrazione dello scienziato pazzo? Dice che risolleverà il morale! Avrei voluto pensarci io! Oswald, abbiamo altri problemi oltre allo scienziato pazzo! Mentre voi due stavate attraversando il sottosuolo, ho avuto il tempo di fare ricerche alla fabbrica delle gag! Volevo scoprire perché Prescott fosse diventato così... Cattivo! Cavando nella fabbrica delle gag, ho trovato questi progetti! Prescott aiutava a sovrintendere un cantiere di Avventurolandia! Ha detto che stava aiutando gli schizzi a costruire case! Ma se guardate bene, vedrete che era una copertura per qualcosa di... Segreto! Ok, non mi dice niente di buono! Forse capiremo perché Prescott ha rotto i proiettori! Lo scienziato pazzo ha detto che c'erano segreti da scoprire! Andiamo a vedere se ha ragione! Forse abbiamo messo fine al complotto di Prescott, ma non vuol dire che il rifiutolandia sia salva! Dobbiamo recarci ad Avventurolandia e scoprire cosa nascondeva! Sai, ho visto Pietro suonare la campana una volta prima di dirigersi all'appartamento sopra la caserma! Ehi, non avrei mai pensato che Prescott fosse un traditore! Meno male che c'era lo scienziato pazzo! Sai, ho visto Pietro suonare la campana una volta prima di dirigersi all'appartamento sopra la caserma! Sì, so come fare! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando! ma guarda chi si rivede il caro vecchio topolino stasera nel meraviglioso mondo del... chissà cos'è che non va con Prescott perché si comporta così? Allora c'è qualcosa che ti ha colpito? Grazie per aver fatto acquisti nell'emporio di Malestreet Vorrei tanto trovare un posto per gareggiare come ai vecchi tempi Salve! Può interessarti un bel lampione? Va benissimo come fermaporta? Grazie per aver guardato il video Oh sì! Grazie per aver fatto visita al cappel! Usa il camerino per cambiare i costumi ma attenzione a non dar da mangiare ai delfini Mordono! 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 Grazie per aver guardato! Grazie per aver guardato il compito! Ehi, non avrei mai pensato che Prescott fosse un traditore Meno male che c'era lo scienziato pazzo Vogliamo entrare nel sottosuolo? Grazie per la visione 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 Buono, no? Grazie per la visione 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 Grazie per la visione